Siamo tutti molto contenti di poter riuscire ad andare in giro, vedere un po' di gente, un po' di vita, poi ora arriva l'estate, meglio. È in un caldo venerdì di giugno che Arezzo riprova a trovare la sua normalità, è in un fine settimana in cui il coprifuoco è indubbiamente con un orario più largo, ma i controlli delle forze dell'ordine comunque ci sono. Disposti dalla prefettura di Arezzo i controlli ci sono soprattutto in centro città, piazza San Francesco, via Crispi, via Roma, chiusi al traffico e piazza della Badia, teatro appena due settimane fa di un'aggressione ad un vigile urbano. Da allora tutto sembra filare liscio e tra un brindisi e l'altro spuntano anche i turisti. Veniamo dalla Sicilia, da Catania e siamo in macchina. Che ne pensate della Toscana allora? La storia, tutto l'ambiente, insomma va bene, a me piace molto, però il mio vino del letto non è il migliore. Controlli durante la movida anche a San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Terranova Bracciolini da parte dei carabinieri. In tutto cento le persone identificate, c'è stata una denuncia per guida in stato di ebrezza e una ragazza segnalata per uso di marijuana. Per questo fine settimana tutti a letto alla mezzanotte come cenerentola, ma ancora per poco. Cosa ne pensa di queste misure anti-covid? La Toscana diventerà bianca, però dovremo comunque tenere le mascherine? Assolutamente, va tenuta la mascherina anche se andremo nella zona bianca, ma è un motivo in più per proteggersi dagli altri.